Cari amici, bentornati a Radio Puginioner. Oggi vi riportiamo una notizia straordinaria, perché non accade tutti i giorni. C'è stata un'intervista speciale di Fabio Fazio a Papa Francesco e c'è stata poco fa, così possiamo aggiornarvi subito, in diretta, di ciò che è stato detto dal Papa in una trasmissione così importante, tra l'altro, che però non è più il Rai. Per cui Fabio Fazio, oltre ad aver avuto grandi ospiti, fino ad ora dà uno smacco alla Rai, portando un personaggio che naturalmente, essendo il re di uno Stato, che ha comunque, al di là delle misure geografiche, tanti seguaci in tutto il mondo, sicuramente ha portato uno dei personaggi più noti ed importanti su 9, dove si tiene ora la trasmissione. Che tempo che fa? Quindi un momento unico in cui il Papa Francesco si è collegato da Santa Marta per un dialogo coinvolgente con Fabio Fazio. Dunque Papa Francesco ha conquistato il pubblico fin dal suo ingresso accolto dagli applausi calorosi della platea. Questo riportano le varie notizie come se non fosse scontato a chiunque entri in una trasmissione. Fanno grandi applausi ormai, c'è chi, lo sappiamo tutti, gli applausi li fa partire, chi dà il via agli applausi è normale. La prima domanda che il conduttore ha posto al Papa è stata delicata e significativa. Come sta? Una domanda che riflette la preoccupazione, anche sincera, di milioni di fedeli nei confronti della salute del Papa, considerando i recenti problemi fisici che lo hanno coinvolto dalla gamba ai problemi respiratori. La risposta del Papa è stata tanto diretta quanto rassicurante e indiretta per di più. Ed è stata questa. Mi viene di dirti ancora vivo. Ecco, ha risposto così. Un'affermazione che ha sciolto le tensioni e ha aperto la strada a una conversazione che ha toccato temi profondi e attuali, ma con un po' di ironia da parte del Papa che ha detto sono ancora vivo, come vuoi che sto. Certo, una figura così importante in cui credono milioni di persone in tutto il mondo non è molto rassicurante che dica sto ancora vivo. Una risposta, diremmo noi, del cavolo, insomma. Però vabbè, andiamo avanti. Che poi in realtà la domanda di Fabio Fazio, come sta, potrebbe anche significare quanto tempo le rimane ancora da vivere? Per cui, insomma, che fosse ancora vivo il Papa. Questo lo sapevamo, anche perché quando muore il Papa tutte le campane dappertutto suonano a festa tutte insieme in tutti i paesi, in genere c'è questa tradizione, per cui tutti verrebbero a sapere subito dalle campane o da altre notizie che arrivano sui cellulari, eccetera, che il Papa è morto. Per cui questo lo sapevamo, però meno male che, insomma, ce l'ha ribadito stasera. Fabio Fazio ha poi, con grande rispetto, affrontato il delicato argomento delle dimissioni del Papa. Si è chiesto se fossero un pensiero suo o una preoccupazione altrui, insomma, se poi i media alla fine avessero montato questa storia qua. La risposta di Bergoglio è stata chiara. Non è né un pensiero né una preoccupazione, neppure un desiderio. Per cui il Papa non vuole dimettersi. Non molla, resta sulla sua poltrona, vuol dire che ancora è in grado di portare avanti tutte le sue responsabilità. Un po' come Sgarbi, ma Sgarbi in realtà dovrebbe dimettersi immediatamente perché è indagato. Insomma, il Papa invece chi non lo indaga nessuno e non ci sarebbe nemmeno motivo di indagarlo. Per cui, vabbè, non c'entrano nulla il Papa e Sgarbi. Però mi è venuto in mente Sgarbi perché questi giorni ne abbiamo parlato talmente tanto e anche delle sue dimissioni che, insomma, mi è venuto in mente. Quindi ha spiegato il Papa che le dimissioni sono ancora una possibilità aperta per tutti i Papi, ma al momento non è al centro dei suoi pensieri. Fino a quando mi sentirò nelle mie capacità vado avanti, quando non ce la farò più sarà il momento di pensarci. Questo è ciò che ha risposto Papa Francesco. Nel corso dell'intervista il Papa ha dedicato ampio spazio al tema delle guerre, dalla situazione in Ucraina al Medio Oriente, naturalmente. Ha definito la guerra come un'opzione egoistica ed ha evidenziato il ruolo negativo del commercio delle armi dietro molti conflitti. Le guerre non sono finite dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sottolineato il Pontefice, commentando ancora che come il commercio delle armi spesso alimenti o prolunghi i conflitti. Tutte cose molto buone. Noi italiani, come Stato, le armi le produciamo, le vendiamo e le regaliamo anche ad altri Stati che sono in conflitto. Qualcosa che forse la nostra Costituzione, per come è stata scritta, se venisse interpretata nel modo giusto, qualcosa che non ci potremmo permettere assolutamente di fare. Il Papa ha condiviso anche la sua preoccupazione per la situazione dei bambini coinvolti nelle guerre, raccontando di aver recentemente incontrato bambini provenienti da Kiev. Ha esposto la sua tristezza nel vedere bambini che, a causa della guerra, hanno dimenticato come sorridere. Il suo appello è stato chiaro. Un bambino che dimentica un sorriso è una cosa criminale. La guerra toglie il sorriso ai bambini. E penso che non è solo quello del sorriso il problema. Ha poi toccato temi importanti come il perdono rispetto per la diversità, affermando che il perdono è per tutti. Papa Francesco ha parlato anche delle benedizioni alle persone LGBTQ+, sottolineando l'importanza di aiutarle a trovare la loro strada senza condannarle. l'importanza di aiutarle a trovare la loro strada senza condannarle a trovare la loro strada e la loro strada senza condannarle a trovare la loro strada senza condannarle. Il Papa ha anche condiviso pensieri intimi sulla sua Argentina e sui migranti, esprimendo il desiderio di visitare il suo paese natale dopo dieci anni. In chiusura Papa Francesco ha lanciato un toccante appello ai telespettatori. Pregate sempre per me perché io vada sempre avanti e non fallisca nel mio dovere, ma per favore pregate a favore e non contro. Anche perché penso che chi preghi contro il Papa in realtà sono persone come me che non pregano. Grazie per essere stati con noi a Radio Puginioner, restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti e discussioni sui temi che contano sulla musica, sullo spettacolo, tutte le notizie e gli approfondimenti di cui parliamo qui nella nostra radio. Ascoltate la mia musica, iscrivetevi al mio canale YouTube Marco Pugini e se volete lasciateci un grazie, un super grazie che ci permette qui su YouTube, permette a voi di dare un piccolo contributo per la nostra radio, per il mio canale, attraverso una piccola donazione. Vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che lo hanno già fatto e vi aspetto alla prossima puntata di Radio Puginioner.